L'obiettivo è quello di dare voce a tutti i territori, quindi ai 26 comuni del BIM, includendo la cultura, il sociale e l'aspetto turistico, territoriale, di tutti quelli che possono abbracciare sia la montagna che i comuni riveraschi. Per cui è una sorta di ente a 360 gradi, però è ovvio che dobbiamo pensare a non spendere soldi inutilmente, ma a programmare, infatti nei primi mesi dell'anno cercherò di coinvolgere tutti i sindaci per fare una programmazione molto interessante per tutti e molto determinante per tutti i territori. Si parlava di soldi, spesso si è detto che il BIM era un ente che elargiva denaro a pioggia, invece mi pare che intende dare una direzione precisa. Sì, quello sì, senz'altro, anche perché i comuni sono i padroni di questo ente, non sono io il padrone, io sono solo quello che rappresenta tutti i 26 comuni. Dobbiamo cercare di mandare soldi a delle circostanze molto importanti, molto identificative per qualunque comune, sia di Giulianova, sia di Roseto, ma possiamo anche parlare di Pietra Camela, di Crogna Leto. Abbiamo un territorio molto vasto, per cui impuntare su determinate situazioni è una cosa molto importante.